La comunità di Scafati saluta per l'ultima volta Rosa Coppola, la signora di 59 anni, morta a seguito di un arresto cardiaco davanti al presidio ospedaliero Mauro Scarlato. La funzione, che si è svolta a pochi metri dal luogo della tragedia di una settimana fa all'interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, è stata partecipata da tanti parenti amici della famiglia Coppola Tarantini e ha visto la presenza anche del sindaco Pasquale Laliberti, che dopo la notizia di decesso ha iniziato una vera e propria battaglia per lo Scarlato, arrivando a firmare un'ordinanza doc nelle ultime ore chiedendo ad Asl e Regione Campania il reinserimento del presidio ospedaliero all'interno della rete emergenziale, con l'aggiunta di ulteriori ambulanze nel posto. Quando sentirete la mancanza, guardate al cielo, l'abitazione che accompagnerà per sempre Rosa, sono alcune delle parole di Don Antonio, che ha mandato un messaggio di speranza alla famiglia e ad un'intera comunità in apprezzione.